Fabio ha dimostrato ancora una volta questa sera di essere in grado di coniugare un grande momento di convivialità con la sua proposta concreta, che è una proposta di un volto pulito come lui, di cui abbiamo davvero tanto bisogno e ha dimostrato durante il suo mandato in provincia di essere stata veramente una persona estremamente concreta, estremamente attenta ai problemi del territorio e alla gente. Quindi lo ringrazio ancora una volta di avervi invitato questa sera, gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua campagna. Sì, la serata è stata bellissima, Fabio mi è sembrata una persona, io non la conoscevo, mi è sembrata una persona molto seria, affidabile e poi presentata da un personaggio come Verona esige al Dice Tutti. Benissimo, lo voteremo senz'altro, mi è piaciuto moltissimo anche la loro operazione di Veronese, il dottor Veronese, se sono straniero parlo un po' male, essendo francese, ti voteremo, lo voteremo, sì, è una persona molto forte. Beh, è la prima volta che lo sentivo parlare, mi è piaciuto la persona, penso che sia l'altezza di quello che ha detto, di quello che ha fatto, quindi era un'ottima conoscenza, un buon motivo per votarlo. Ho avuto un'ottima impressione, sia per la presentazione, per le persone che l'hanno presentato, mi ha fatto veramente piacere di averlo ascoltato, mi sarebbe piacere, sicuramente saremmo convinti, diciamo, convinti di prima, proprio il votare. È giovane, spero nel cambiamento. Di più, non si può, ha voglia, è capace, ha voglia, fa le cose per amore, quando uno le fa per amore non le pesa, le fa un grande successo di tutto quello che tocca, sicuramente va bene. Bellissimo come signore, è una brava scatazione, ho già guardato bene, troppo brava, per me il voto è per me. È una serata splendida, come al solito ci sono dei votati da ragazzi molto intelligenti, Fabio lo conosco da qualche anno e lo apprezzo sempre per la sua serietà e soprattutto per la sua correttezza. Buonasera, è un ragazzo giovane che penso possa rappresentare l'ideale dei giovani e sia anche segno di rinnovamento, proprio nella politica, perché abbiamo bisogno di cose nuove e anche oggi sentendolo penso che a meno a me ha trasmesso fiducia e credibilità. No, finalmente ho conosciuto un ragazzo giovane, un talento che ci rappresenta, un ragazzo che ama la parola fare, la parola concretezza e noi abbiamo bisogno, soprattutto noi giovani, vogliamo avere dei ragazzi in politica che ci rappresentano e che fanno della parola concretezza e i loro sponsor del Rosio Alba. Una tua opinione su Fabio? Mi è piaciuto molto come si è proposto, idee chiare, molto ambizioso, pertanto il voto glielo garantiamo sicuramente perché è giusto che un giovane quasi coetaneo mio possa realizzare i sogni e i progetti di una regione che ha tanto da fare e può tanto dare.